Beautiful Anticipazioni 2019 Steffi e Liam tornano insieme. A Beautiful, si sa, gli amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. È il caso di Steffi e Liam che potrebbero tornare insieme nel 2019. Nelle ultime puntate americane i due sono divisi lei e una mamma single, mentre lui è sposato e in attesa di una figlia da Rob. Liam e Steffi restano però legati per la bambina che hanno in comune, la piccola Carrie, chiamata così in onore della madre defunta di Spencer Junior. Al momento dunque sono separati ma Steffi ama ancora profondamente Liam e con il nuovo anno potrebbe cercare di riconquistare il ragazzo. Secondo gossip e indiscrezioni che circolano in America, Steffi potrebbe riprovarci con Liam in un momento di debolezza di Hope. Quest'ultima, stando ai rumores americani, perderà la figlia che aspetta da Liam e questo la getterà nello sconforto. E Hope non sarebbe la prima volta anni fa ha perso il figlio che aspettava dall'ex marito Wyatt Spencer. Taylor incoraggia la figlia Steffi a riprovarci con Liam? Ad incoraggiare Steffi a riprovarci con Liam ci penserebbe Taylor, tornata in pianta stabile a Los Angeles. La dottoressa è rientrata a Beautiful per stare vicino alla figlia e alla nipote Kelly. Quindi i stima torneranno definitivamente insieme. Al momento si tratta solo di speculazioni e indiscrezioni. Nulla di tutto questo è ancora accaduto nelle recenti puntate americane di Beautiful. Taylor e Thorne complici contro Bill Spencer a Beautiful? Stando ad altri pettegolezzi nelle prossime puntate di Beautiful si tornerà a parlare pure di Bill Spencer. Ormai è noto che Taylor ha sparato all'editore ma la donna potrebbe aver subito un lavaggio del cervello. Da chi? Niente popo di meno che da Thorne Forrester, pronto a vendicarsi delle morti di Darla e Ali.